Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, siamo sul canale di Papa e andiamo avanti in l'ombra di Mord Questa missione... non mi piace Faccio ancora questa missione principale, poi magari faccio un paio di missioni secondarie senza... senza registrarle, solo per potenziarmi un po' Come ho fatto a vedermi E lo chiami duello? No, lo chiamo perdere un duello, Glob Qui, qui, eh? Va bene, io mi metto qui Neanche prova a scappare Oh ma sto telefono è una maledizione ragazzi È una maledizione, quando faccio un gioco devono chiamarmi Interrompo e ci vediamo fra poco Ok ragazzi ci riusciamo Ho deciso che staccherò la linea telefonica di casa, non è possibile Che poi questa non è mica la prima volta che succede, eh Solo che le altre volte ho pensato male di rifare i... i gameplay Invece adesso ho pensato ma cazzo alla fine interrompo un attimino un po' e basta Allora, come bonus c'è quello di uccidere gli arcieri In meno di quattro minuti Io in quattro minuti devo uccidere anche il tipo Perché se devo uccidere anche il tipo è dura Ma l'hanno fatta un minuto fa, non è vero? Dove sono gli altri arcieri? Qua ce n'è uno Ehi, ehi, ehi Ecco Non mi ha visto? Oh, questo è passo Vieni qua, vieni qua, sì, ti faccio la sesta Con una freccia e furtivamente, vero? Come hanno fatto a scoprirmi? Ah, che noia Vabbè, dai Mi faccio scoprire un po' Come hanno fatto a vedermi o me lo dovrebbero dire Invulnerabile Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene Va bene, ok, ucciderò Questi vermi non sono meglio dei Tark come te Mostrerò a tutti quanto poco valgano Ok Managgia ragazzi quanto è figa sta cosa No, mi hanno colpito Interrogare i Capitani Quando assolute Vabbè, ma lo sappiamo già come si fa Lascia in vita il voyeur Lui sa cosa dobbiamo fare Ok, ok Un secondo Voglio solo uccidere questi due Stai calmo, eh, stai calmo Che sei morto Stai calmo, sei morto Allora, i comandanti sono in rango più alto Ok Slogami indica che Bragg è la guardia del corpo di un comandante sconosciuto Ok Mog è l'altro gemello L'altro gemello, ma di chi? Questa è la vera domanda Vabbè, dai È stata una cosa semplice Iniziamo a capire un po' meglio come uccidere Ok, ma mi fai uscire Inoltre rimane bloccato per un minuto Non capisco perché Prendiamoci sto coso No, dai Stavo vedendo Però non è che mi stia servendo molto questo qua, eh L'accordo L'accordo finisce qui Boh Se insisti Ma pensavo che Va bene Aspetta Aspetta Ramingo Guarda Quando il comandante saprà della mia vittoria Mi vorrà come guardia del corpo E io cosa ci guadagno? Un traditore è sempre utile Io mi occuperò di uno dei comandanti E tu Uccidi gli altri quattro da solo Poi Ci rincontreremo al campo di addestramento Farò in modo che il comandante sia Quando tu sei pronto Che ne dici? Fai in modo di tenerti la testa sul collo stavolta Ma certo Cioè È il mio piano Speriamo Non mi ispira fiducia troppo Questo qua, eh Duello Ah Brog di gemello L'altro gemello vuol dire che quello lì è il gemello di questo qua, credo Cioè almeno Dovrebbe Ho preso Eccolo qui Allora E ma queste sono fighe Quattro proiettili No Intanto mi servono Li recupero tranquillamente No Per ora tanto non serve Finché Ah no Aspettate 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 che ci potenziamo Allora Cosa abbiamo sbloccato? Un'uccisione furtiva spaventosa Quella è cattiva Lancia il pugnale Affilina Faccio te Sperare un ultimo colpo di grazia In una lotta Ok La doppia vantaggi Vuol dire che il carico più in fretta Non è male Gli attacchi con l'arco Mi date le gambe You're È una figata Asciuga in fortività Obbligatorio E poi direi Questa cosa qui Della cattiveria Ok Uccidi i comandanti Ok Quindi quella adesso è diventata La mia missione Stai calmo eh Pure tu Non ti devi agitare Ehi Ehi A chi stai per morire? Hai intenzione di correre di nuovo al nero cancello? Ma chi è scappato? Ma magari questi sono quelli che inizialmente sono scappato perché erano troppi Sì dai Sei buono Non puoi farmi del male? Sì sì Sei già morto Credi che me lo sia scordato? Tu sei mio Posso acquisire anche informazioni su A posto Va bene L'ha la maniera Ciao Beh Sta sfida è servita comunque Dammi sta roba dell'arco Recupera il 55% Da concentrazione Dopo aver immobilizzato un nemico con l'abilità In casa sul posto Vabbè questa cosa è figa Cioè devo sbloccare prima l'abilità Però come roba è figa No comunque ragazzi ho cambiato idea Penso che faccio ancora un po' di missioni principali E poi ne farò qualcuna Sì non principale Un altro Tu chi crede che è Uno che fa paura? Mmm Vabbè Non puoi farmi del male Basta Ormai abbiamo trovato la combo ragazzi Che è cattivissima Da quello che ho capito Io devo andare adesso A trovare tutti i capitani Quindi i comandanti Come cazzo sono Quindi dobbiamo prima trovarli Dammi stare una Probabilità del 14% Di recuperare 5 proietti da FC Mmm Mi interessa Ok Quello è troppo bello Dovevo ragazzi Scusate Era dovuto E questo? E questo cosa sta facendo? Pazzo Va bene ragazzi Ci vediamo al prossimo video Spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Lasciate un mi piace E iscrivetevi al canale Magari condividete Almeno Ci saranno sempre più persone Che vedranno i miei video Spettacolari Guardate con che cattiveria Va bene ragazzi Ciao a tutti A presto Ciao a tutti Ciao a tutti